Eccomi! Salve! Salve! Benvenuto al Limit, signor Speck. Speck. James Speck. Oh, ok. Bene, Sam, non me l'aspettavo così giovane. Non si preoccupi per i soldi. No, non lo dicevo per quello. Ok, andiamo. Lo dicevo così, per dire. Ah, sì, lo so, ho appena preso una bottarella, ma il motore va, non si preoccupi. Mia madre ci aspetta davanti casa. Entri pure, aperta. Grazie. Forza, si parte!